Dove siamo? Rosalind, Nassau, Bahamas. C'è un suo amico che vuole vederla. No. Tutti i miei amici sono morti. Questo no. Il suo amico ha capito che non esiste controllo nella vita. Dovunque tu vada, dovunque ti nasconda, c'è il rischio. Il suo amico l'ha capito questo, ne ha fatto il suo business. Cinture, apparecchi e dispositivi di sicurezza. Il suo amico ci ha fatto i miliardi. La gente paga per sentirsi protetta, anche se non lo sarà mai. La sicurezza è il più grosso rischio che esista, perché la sicurezza non lascia spazio ai miracoli. E i miracoli sono l'unica cosa certa della vita. Mister, lei dice cose strane. Io non voglio miracoli, ma solo ritrovare mia moglie Lourdes in paradiso. Sto forse chiedendo troppo. Sto forse chiedendo troppo. Cinture. Sto forse chiedendo troppo. Io sono il solo superstite. L'unico rimasto che so. Sono l'ultimo. No, non sei l'ultimo. C'era anche un bambino. Sono io. Angelo. 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 Si? Angelo. Angelo. Grazie a tutti.